Amici di Videocorigliano, ancora una volta ci tocca dare notizia di un incendio. Si tratta di un incendio dalle proporzioni spaventose in località Piana Caruso. Per diverse ore le fiamme hanno devastato un'ampia aria, spingendosi vicinissima alle abitazioni, che sono state fatte evacuare dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che con tutti i mezzi a loro disposizione, due elicotteri compresi, sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione e a far rientrare il pericolo che aveva diffuso il panico fra la popolazione. Le operazioni di spegnimento sono state rese ancora più ardue dalla presenza di un vento torrido che alimentava di continuo le fiamme. Anche le autorità sono intervenute sul luogo e mentre un'ondata di fumo nero rendeva l'aria irrespirabile per diversi chilometri, si sono fatte le prime ipotesi sulle cause del disastro e il fatto che i focolai fossero svariati sparsi attorno alla zona paventa la possibilità di un'origine di natura dolosa. Fortunatamente, almeno per ora, non si hanno notizie di feriti, ma il danno ambientale è elevato e occorreranno anni perché la natura devastata ritorni come prima. Il bilancio dell'estate 2007, purtroppo, per quanto riguarda gli incendi, è davvero drammatico, come testimoniano le tante aree, anche urbane, dove le fiamme hanno lasciato un evidentissimo segno.